Avevano affidato nel 2006 al professore Luciano Spagnuolo Vigorita due consulenze in materia di lavoro e relazioni sindacali. Ora dovranno risarcire di 30.000 euro il Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni. Sono l'ex presidente Giuseppe Tarallo, il vice dell'epoca Natalino Barbato e il consigliere Alessandro Pasca, che votarono la delibera, assieme al direttore Angelo De Vita che assegnò gli incarichi. La sentenza di primo grado è arrivata dalla Corte dei Conti lo scorso giugno, ma è balzata all'onore delle cronache in questi giorni, dopo che sabato scorso, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 della sezione giurisdizionale per la campagna della Corte dei Conti, il presidente Fiorenzo Santoro l'ha citata nella sua relazione in riferimento ai provvedimenti 2014 sull'illegittimo ricorso alle consulenze esterne. I vertici del Parco del Cilento sono stati condannati per aver causato all'epoca un danno erariale alle casse dell'ente che amministravano e questo perché l'attività affidata al professor Vigorita rientrava nei compiti istituzionali ordinari dell'amministrazione e infatti fino ad allora era stata svolta da dipendenti interni senza ricorso a consulenze. Già i revisori dei Conti avevano criticato come lacunose le motivazioni adotte dai dirigenti del Parco a supporto delle loro scelte e cioè che non ci fossero professionalità interne in grado di affiancare il direttore. Ora la Corte dei Conti ha rimarcato il concetto che si trattava di prestazioni lavorative ordinarie rientranti nell'attività del personale inorganico e per le quali al massimo ci si poteva balere della consulenza della RAN evitando così di far spendere al Parco ben 45.000 euro per i due incarichi assegnati all'esterno. Il primo dell'importo di 15.000 euro non è stato soggetto ad alcun provvedimento giudiziario essendo andato in prescrizione ma il secondo pari a 30.000 euro dovrà ora essere risarcito dai vertici dell'epoca dell'area protetta. La sentenza di primo grado però è già stata impugnata presso la sezione centrale della Corte dei Conti a Roma.